Ragazzi, siamo per cominciare! No, Antonio, forse la lascerò meglio Tu da là ci vedi? Da lì? Ti sei sicuro che ci vedi fino a lì? Perché quella app, secondo me, sarebbe meglio Ma secondo me non faranno vedere la certifica tra l'altro avanti e l'altra? Cioè, non faranno vedere di più veloce Ah! Eh, però carichera qualche file con qualche... Si! Però... Adesso il cellulare si riprende... No! Is dead! Che fai? Ma provate, ma io non direi che a chiamare a te Ma ne s'ha messo! Ma questa mamma le ha messo! Ma questa mamma le ha messo! E' so! E' so! 어서 cuore! E' so! Dìa!